Controlliamo, bravo! Ora siamo in vantaggio! Dominio! Catturate e difendete le posizioni operative avanzate! Lancio una stordente! Venito, sportile! Flashbang lanciata! Ricarico! Perdiamo B! Abbiamo due obiettivi! Difendiamoli! Devo ricaricare! Ricarico! Siamo su Charlie, attendere! Sono con te! Nemico, ponte! Cambiamo tutte le posizioni! Sono bravo! Granata partita! Devo ricaricare! Il mio caricatore! Granata partita! Colpito! Colpito! I nemici presso Alfa! Serve supporto a Charlie! I nemici hanno preso Charlie! Aiuta la squadra presso! I nemici hanno preso Alfa! Radar personale nemico in volo! Appuntato qualcuno! UAV alleato in sorbolo! Appuntato in posizione! Occhio dove spari, cazzo! Abbiamo preso Alfa! Radar personale nemico in volo! Appuntato qualcuno! Punizioni disponibili! Granata partita! Abbiamo due obiettivi! Difendiamoli! Intervieni su me! Porta! Abbiamo perso B! Venito! Al tempo! Lancio una stordente! Carico! Controllano due obiettivi! Riprendiamoceli! Carico caricatore! Sto per finire i colpi! Noi ne hanno colpito! Prendiamo! Bravo! Attacco a grappolo nemico! Al riparo! Approvvigionamento nemico in arrivo! Intervieni su bravo! Nemico via principale! Mi hanno colpito! Abbiamo perso B! No! Perdo un certo! Sotto una granata! Sotto una granata! Perdo un certo! Spazioni disponibili! Radar personale nemico in volo! Appuntato qualcuno! Lancio una stordente! Granata partita! Sto per finire i colpi nemico in volo! Porti alleato in sicuro! A di male! Sto per finire i colpi! Sotto una granata! Controllano due obiettivi! Stiamo prendendo Bravo! Stiamo a metà strada! Combattete! Prendiamo Bravo! Bombardamento di precisione nemico! Al riparo! Stiamo a metà strada! Sparano! Devo ricaricare! Abbiamo preso Bravo! Ricarico! Nemico vicino al complesso! Per finire i colpi! Misioni disponibili! Devo ricaricare! Nemici preso Bravo! Approvvigionamento in arrivo! Niente male! Approvvigionamento alleato in arrivo! Abbiamo due obiettivi! Abbiamo preso Bravo! Missile cruise troppo all'altro! Taglio a terra! Granata partita! Abbiamo preso Bravo! Attendere! Aria contrassegnata! Provedente! Qui giallo è preso! Sicuro in partita! Ottimo uccisione! Granata partita! Controllano due obiettivi! Riprendiamoceli! Stiamo prendendo Bravo! Nemico vicino al complesso! Cambio caricatore! Abbiamo preso Bravo! Tramoreto! L'area! Li copro io! Ordinate di lancio! Sessioni disponibili! Ricevuto! Nomada 2-3 pronti al lancio! Andiamo! D'accordo! Venito! Radar personale venito in volo! Appuntato qualcuno! Bombardamento di precisione! Abbiamo due obiettivi! Difendiamoli! Aria contrassegnata! Procedete! Qui Stryker 3 ricevuto! Attacco in corso! Colpi fuori bersaglio! Lancio un'esternante! Il tovo alleato fornisce assistenza! Sono dietro! Serve il risultato! Devo ricaricare! Non è fatta! Non è fatta! Non è fatta! Tenito il risultato! Andiamo! Planalto! Facita! Buon attacchare! Nemico vicino al complesso. Aiuta la squadra presso A. Mi hanno colpito. I nemici hanno preso Alpha. Nemico, cortile. Radar personale nemico in volo. Appuntato qualcuno. Vedo il movimento. Sono io, vai! Lancio una stordente. Putto una granata. Controllano due obiettivi. Riprendiamo le relazioni disponibili. Mi stiamo schiacciando. Continuate così. Nemico, cortile. Prendiamo l'alpha. La granata. Adesso, la squadra è arrivata in zona. Alpha in mano nostra. Cambio caricatore. Aiuta la squadra presso Bravo. Missione compiuta. Potete rientrare. Nemico vicino al complesso. E? È effettibile. Non propettere. Non propettere. Non propettere. Non propettere. Non propettere. Grazie a tutti.